La fame, la nudità, il degrado, tutti ingredienti che lo spingevano ad una sola parola. Ma io non ho fatto nulla, gli stavo restituendo il parcelletto alla signora. Signora glielo dica a lei che le stavo dando e partiva di indietro. Niente muore se la speranza diventa certezza. Vuoi dire che è Gesù che ti dà questa pace nel tuo viso? E questa è la risposta che volevi darvi? Sempre gentile e raffinato tu. E chi dà oggi? Io non lo so dove. Non mi piace, rispettore. Ma devi sapertela cercare, la verità. Da quando Gesù è entrato nel mio cuore, la mia vita è cambiata. La mente a te stesso. Da me che ci pensi? Nessuno mi ha mai offerto niente. Nessuno. Tieni la tua finestra. La fame. La ricerca della verità lo sconvolgerà per sempre. Entro mezzanotte. Un film di Peppino Orecchia e Tony Gangitano. Presto al cinema. Orecchia e Tony Gangitano. Ma stand number. La ricerca della verità lo sconvolgerà. Grazie.